vabbè dai l'ultimo pezzo da montare è il parafango che la hornet non ha la catena ma non il parafango quando piove si tira su le peggio schifezze direttamente sull'ammortizzatore e sulla vaschetta di espansione del freno posteriore insomma tutte quelle altre cose simpatiche e permettere il fantastico kit givi bisogna smontare il terminale questo aspetta com'è che no non cominciare anche te ti spengo il microfono onda portami al lavoro vacanza senza voler altro che l'amore baulenti quindi dovrebbe venire a cusci ovviamente il para catena si toglie quello originale viene sostituito da quello givi ma va su anche incastro non posso mettere le viti controviti cos'è che vuoi fare due fascette colla a caldo colla a caldo ma vieni dai 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 su allora via questo tra l'altro vorrei sottolineare che costa questo cosino di plastichina che vedi zic 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 in 50 no ed usa in 40 l'ha portato al buon natale da natale oggi potrei essermi dimenticato però non mi sembrava così tanto sai quanti lavaggi fai con così tanto vai da mica viene prima a smontare mi mi servono le chiavi invece di stare lì a far pirrone dai 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 su 8 no 5 12 e 8 che brutta così sarai bello te sicuramente è il momento della marmitta che è di qua a questo no credo ci sia un certo punto via il ditino allora va tirato giù il bullone della marmitta prima di visitare questo quello è questo ma allora è questo a che bigola sbagliavo perché non considero che ne ho quattro di pedane possiamo smontarle no per le bambine oddio se ci posso mettere sui bauletti si dudes cosa consiglio quella tubo non ce l'ho qua non ce l'hai lì aspetta fidati è buona lì la tieni chi la moto si porca troia perdinci merdina c'è il contro dado si controlla se devi smontare altro prima di trovarti la marmitta che pendula dice tutte e due ninnala c'è cerca di ruotare le mani c'è sto fermo perché sono qui a farti il video infatti allora vai avanti a farmi il video puttana bacca poi me la mettevi un po' più in alto vuoi che te l'abbassi uno zicco? no mi fai paura quando la muovi aia siamo stati due centimetri forse neanche devo una manetta? no nel caso ve lo stesse chiedendo è camuna di origini che cazzo? mezza camuna mezza milanese piantala stupidino questo lato dolce è quello milanese smettila stupidino morca troia questa è la parte brava boh mi sono vordata tutta strano me l'aveva detto freddi che dovevo lavarla questo è grasso o l'ho limata? l'hai limata e vabbè patronde del resto mi fermi i ricci poi boom fatto remove rimosso meno male che ho detto fermi i ricci prima di procedere ad applicare un panno sul foro della scapia per evitare di farvi cadere accidentalmente dalle viti scena sono la sembri quasi professionale poi ok ok oh poi poi se vuoi ti ho un altro foglio da girare cosa c'entra cosa c'entra? l'ho già visti sto cercando le misure scusami quello giallo taranzia quindi chi se ne frega istruzione del montaggio ci saranno le misurine no? questo l'abbiamo usato tutto ti senti la carogna sulla spalla? no 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 mi sento così rilassata già che non ci sono le misure vabbè me ne fotto le prendo io le misure anche perché ti fa vedere nell'immagine dove sono le misure sì certo amore ma visto che qui ci sono i centimetri eh magari check the screw line here serve per le viti non si è visto il polliciotto non era un polliciotto non era un like allora un pezzo qui un pezzo qui ma invece di fare il pirlone se vieni qua a farmi luce ormai ho fatto il solito inutile che sono abbiamo 42 luci in garage e un che è una che serve decente è perché quelle del ponte non le ho ancora messe considerando che la luce è una luce non mi ricordo più qual era quello c'è l'altro scusa quindi non mi serve questo adesso certo tac era questo direi di sì sì se la smette di riprendermi è anche meglio ti faccio luce cosa vuoi dare mi impicciano un poco ma l'avete smontata giù tutta per che cosa? per mettere il parafango perché mi manca uno zicchetto qua secondo te vediamo perché potrebbe essere che questo qui non è centrato bene svita questo potrebbe essere che c'è da incastrare la parte davanti ma l'ho fatto incastrato lo vedi lì dietro? no non lo vedo però se l'hai incastrato è buono quindi qui è posizionato così li smette questo coso in mezzo ai maroni usa l'altra cricchetto tratta bene i tuoi freni lo accento dei freni questo è il tubo dei freni sotto vera sì quindi questo è questo mi fai luci lì invece io ti faccio luci tu ne smetti di muovere i ricci in mezzo all'inquadratura che qui l'Oscar non ci arriva fatti su il cricchetto che sei più comodo è qua il cricchetto saridi cosa stai facendo sputa il cricchetto ma scusa un attimo non dire è troppo molle avevi la prolunga prendi sta cazzo di prolunga ma ascoltami ma sarò capace di avvitare una vite sì certo senza te che mi rompi le balle vedi che mi impingia il cricchetto la prolunga ole com'è che è vada via al chi ma è a graffia ti morde perché non dai retta guarda prossima volta mi vengo giù di nascosto buona buona che fai una forza della madonna con quella chiave ecco evviva poi cosa dice nelle istruzioni le istruzioni dicono di rimontare la marmitta queste due non servono più quali? le due che c'erano al posto di queste ah sì? sono state cambiate? eh sì sono più lunghe marca ah una andava qua mi ricordo più dove andava l'altra andava qua e l'altra e l'altra sotto per il collare ah è bravo questa va sopra e questa va sotto se io lo metto sopra aspetta perché c'è questo? ah lì sotto quindi va così qua vedi? ok c'è il suo invito tesa? eh insomma non ti viene voglia di accenderla? oh non abbiamo qua le chiavi ah mi sa che qua mi dovrai un po' aiutare arrivo ma sai che no invece va dietro bene insomma e mi sembra strano con la fatica che hai fatto a tirarla fuori non dovrebbe andare dentro bene aspetta che fermo il video magia magia lo scarico è tornato al suo posto ma se lo metto dietro? mettilo dove era? eh ma può andare in tanti posti eh eh ma mettilo com'era che ne so io di com'era allora prima stavi facendo girare la chiave in questo senso eh lì sotto boh basta no? non c'era qualche coppia di serraggio? questa ok quindi quella la controlliamo dopo dov'è che l'avevo visto? acqua da qualche parte c'erano i newton metri cacchio uno di quattro due di quattro tre di quattro acqua ecco ma qual'era scusami ma qual'era scusami? eh non so i due di là erano sì quindi fa essere stringo a pallettoni no pallettoni paura pallettoni pallettoni? no pallettoni paura pallettoni dinamometrica metrica dinamometrica? metrica vado a prenderla grazie qua una qua ce n'è una e lei? sì è l'unica che manca cos'è sta cosa? le brugoline ine ine e non lo so hai sbragato via tutta la la cassetta sì va bene ma scusami devono avere un gancio un coso no devi guardarla devi cullarla sta cassetta va bene piano ma scusa hai visto mai una cassetta che si apre dall'alto? ascolta pensavo si girasse da di là cioè di solito fai sclac e la apri non sclac e la apri dove vai? orca puttana fiata ti ha morso sei difesa maia cosa dice? nove e mezzo nove e mezzo non mi guardare come si fa a cosare nove e mezzo stai facendo qui i denti fai paura ma risangui sangue risangue si è difesa povera cassetta con questa no ce l'avevi ah no giusto era una brugola però una brugola prendiamo la brugola e la madonna siamo sicuri? hai già cliccato piano ah è questo clicca è nove e mezzo e cosa ne so io mi sembrava di fare non esce perché sei storta devi essere in asse dai smetti con quella cosa che quando non riesco a fare le cose porca miseria piano non esce devi rimetterla perché va rimessa dritta è tutto lì finca l'hai sbragata meno male che avevi sulla dinamometrica cazzo al primo clic ti fermi non al 43esimo seduta sopra vabbè ma scusa se è dinamometrica io posso girare quanto cazzo voglio lui si ferma no lui ti fa clic sei tu che ti fermi come on fine vabbè non esce neanche ah ecco per caso è uscita subito? potrei perderla la dinamometrica? sì c'è che faccio scendere velocemente là? dai non farlo cazzo volpi dove va questo coso? là là rimetta a posto si scarica sempre la dinamometrica la candela va sempre scaricata se non la taratura va a quel paese quando mi fai queste cose queste cose cosa? queste cose si scarica c'è scritto sì se leggi il manuale non ci sono i disegnini come no? no qua c'è il lucchetto resti ricci e come si scarica? e la riporti a zero cioè a zero vai al limite inferiore basta piano dolce ero già arrivata boh no metti la via va basta? sembrerebbe cos'altro bisogna fare qui? è un trucchetto? no non lo so c'è le tue istruzioni le istruzioni sono finite e allora è finito la moto è montata però non mi torna qualcosa qui le istruzioni io le seguite eh ho capito ti so cos'hai? forse questo qua deve andare un po' più giù e questo inovanti no perché le viti dici? no le viti devono corrispondere quindi non è che ci sia troppo da non vorrei che questo debba andare qua sotto più sotto e più in là però questo è giusto bocce guardiamo allora svelato il mistero adesso il gioco la luce è a posto perché aspetta pandi bisognava spingere quella roba lì il più avanti possibile e quindi rimaneva nella posizione corretta tu fa vedere pandi contenta non stringere troppo non ho stretto troppo dai cretino ma te viva sei un pirlone sei ecco aia 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 vedi che si vendica la moto tu mi tratti male lei si vendica mi ha strappato no veramente la tua cassetta stupida no cos'altro piano che l'hai già stretto basta adesso è stato come quelli di prima stonk quando li ho smollati per farti fare qualcosa a te per darti la soddisfazione certo quindi abbiamo finito questa sera gli spieghiamo a tutti si c'erano babbi di minchia avete presente questi gommini qui bene questi gommini qui no aspetta un attimo prima spiegagli che proviamo a far girare la gomma e la gomma non gira e gira un po' e poi non gira un po' la mancia togli disfa rimetti prendi le chiavi della moto magari c'è qualche taggine quelle cose lì che la bloccano l'auto bloccante l'auto come quelli dei giardini poi ho mandato la pandi a prendere le chiavi della moto corre su a prendere le chiavi e orno e niente era questo questo che bloccava i bulloni questi fa niente mettiamo a posto la mia bella cassetta questo qua vedi che si incastrano quindi scusa pandi lavoro finito? potrà sì no abbiamo dimenticato qualcosa? ci fermiamo per oggi e domani penseremo ai tamponi quindi carapandi salutiamo tutti ai tamponi a domani bye 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 bye